Doppio colpo in casa Turris, la società Coralina ha annunciato l'accordo a titolo definitivo dal Vicenza con Anthony Tucurdo, centrocampista che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Ha prodato in Italia nel 2008, ha debuttato nel Pisenzere B, categoria in cui ha meritato nell'ultima stagione. In cadette IA, precedenti, esperienze anche con le maglie di Albino Leffe, Trapani, 88 oggettoni totali, 16 gol e 5 assist, considerando pure il campionato vinto in C. E' Venezia, 31 presenze con diede da 4 assist nell'annata 2020-2021 della promozione in Serie A. Nei campionati professionistici italiani ha giocato anche nelle file di Prato, Sant'Arcangelo e Piacenza. In difesa, ecco Salvatore Boccia, che si trasferisce alla Turris, impresso fino al termine della stagione sportiva 2022-2023. Cresciuto nelle giovanili rosso-blu, 76 presenze in primavera di cui è stato anche capitano, Boccia ha giocato lo scorso campionato tra le file dell'Olbia. Fresco di rinnovo con il Cagliari sino al 2025, in squadra in questo inizio di stagione avrà l'opportunità di giocare con quantità e malottare più esperienza tra i professionisti. La Virtus Franca Villa ha ufficializzato l'arrivo di Andrea Cisco, proveniente dal Pisa. L'esterno di centrocampo Veneto, classe 1998, ha militato tra i professionisti in Serie C con le maglie di Padova, con cui ha vinto il campionato e la Supercoppa di C nella stagione 2017-2018, al Bissola, Novara, Pisa e Teramo. Colpo della Juve Sabbia, che si assicura all'esterno d'attacco del Palermo, tra i protagonisti della promozione rosa-nero, Andrea Silipo. Il calciatore, nativo di Roma, cresciuto calcisticamente nei giallorossi, ha vestito la maglia del Palermo. Nell'ultima stagione ha collezionato 28 presenze con il rosa-nero condite da due gole e altrettanti assist.